Si è svolta questa mattina presso la sede legale della BCC Buccino Comuni Cilentani la conferenza stampa di presentazione del progetto La Finanza che va a scuola. Il programma prevede due mesi di presenza costante nelle scuole dove i professionisti del settore della finanza, in collaborazione con i tutor interni alle scuole, condivideranno con i giovani esperienze che approfondiscono temi finanziari, mercato primario e secondario, borsa valori, settori, trend globali. La finalità del progetto è quello di stimolare attraverso le istituzioni scolastiche, attraverso la programmazione delle attività scolastiche, quella curiosità e l'interesse negli studenti ponendo l'accendo su quello che è l'importanza della conoscenza delle nozioni finanziarie di base delle pratiche elementari che necessariamente bisogna che le giovani generazioni conoscano e ponendo l'accendo su elementi fondamentali della finanza come possono essere la consapevolezza degli elementi che generano il risparmio, la conoscenza degli elementi che concorrono alle decisioni sugli investimenti, al corretto utilizzo della finanza personale, questo nella consapevolezza che oggi la finanza ha un valore strategico funzionale a ricevere un benessere economico individuale, quindi noi come banca quando parliamo di agevolare nelle giovani generazioni appunto un patrimonio di conoscenze, concorrere alla crescita e alla formazione dei giovani significa praticamente dare quegli elementi informativi insieme all'agenzia di formazione importante come la scuola affinché i giovani prendono una piena cognizione delle regole di funzionamento dei mercati finanziari, delle istituzioni finanziarie e quant'altro. E le banche di credito cooperativo in questo progetto vogliono appunto rimarcare l'importanza di perseguire gli obiettivi che oggi i sistemi finanziari si pongono ma nel rispetto delle regole, nel rispetto del benessere economico delle comunità. Ci sono una serie di incontri per ogni istituto dove verranno trattate materie, come dicevo prima, complesse ma che dobbiamo essere bravi a far sì che vengano esposte in modo molto semplice e quindi ci sarà un calendario di incontri dove le materie trattate sicuramente in primo posto abbiamo questo concetto di innovazione costante e continua dove oggi l'informazione è un valore ed è un asset dominante e cercare di dare una chiave di lettura a quelle informazioni che quotidianamente si apprendono dai media perché chiaramente il problema che oggi ci poniamo è che quando un giovane oggi sente che lo spread aumenta o che la BCE sta adottando una strategia di quantitative easing per rimettere liquidità sui mercati di dare una chiave di lettura del perché di queste manovre e a che cosa servono e che cose ci dobbiamo aspettare a seguito di queste manovre.